Certo, è poca cosa la nostra offerta, ma Cristo ha bisogno di questo poco. Ci chiede poco il Signore e ci dà tanto. Ci chiede poco, ci chiede nella vita ordinaria buona volontà, ci chiede cuore aperto, ci chiede voglia di essere migliori. E per darsi se stesso a noi nell'Eucaristia ci chiede queste offerte simboliche, che poi diventeranno il corpo e il sangue.